gentili telespettatori buona giornata parliamo ancora del deputato con gli stivali l'astronascente della sinistra sou maoro che si è autosospeso dal partito probabilmente gli han detto o ti sospendi o ti cacciamo noi si è autosospeso e il va da formigli va da formigli e racconta cose che cosa racconta che lui mentre girava il paese non si è accorto di quello che succedeva in famiglia lui ha girato il paese per andare a difendere in lungo e in largo braccianti persone in condizioni svantaggiate però lui con tutte queste assenze stando fuori casa caspiterina erca miseria non si è accorto che nelle cooperative della della moglie della suocera succedeva esattamente quello che succedeva nelle altre cooperative dove lui andava lì a cercare di far valere i diritti di queste persone sfruttate e sì sou maoro l'astronascente ospite di piazza pulita da corrado formigli un faccia faccia cerca di difendere la sua posizione dopo l'indagine che tira in ballo moglie e suocera mi sono autosospeso perché credo nei valori dell'integrità della dignità umana nel rispetto della storia che mi porta qui questo è quello che dice lui io credo mia opinione che probabilmente il partito gli ha detto guarda o ti autosospendi o ti cacciamo noi scegli tu è più dignitoso che ti autosospendi così puoi raccontare questa cosa del lo faccio per l'integrità morale mentre se vieni cacciato che cosa racconti mi hanno cacciato per l'integrità morale mia opinione non lo so lui racconta che si è autosospeso io non ci credo però è una mia opinione insomma oro diffonde i video dove cerca di di scusarsi dice poi dice schiedo scusa per quel video non riuscivo a capire cosa stava accadendo era come ritrovarsi sul ring senza capire da chi provenissero i colpi e no caro mio tu sapevi perfettamente tu sapevi perfettamente quello che stava succedendo e dire che tante persone hanno cercato dal pd che ha cercato di avvertire sinistra italiana c'è un sacerdote che ha cercato di avvertire frato gli anni e bonomi che sono i leader di questo partito anche quell'ex magistrato di napoli come si chiama ho visto prima ho letto prima un articolo che dice ma dei sospetti c'erano c'era qualcosa di non chiaro intorno a questa figura quindi è un qualcosa che molti sapevano che c'era qualcosa di non chiaro ma frato gli anni e bonovi dovevano per forza creare questo astro nascente poi a 30 giorni dall'insediamento del governo viene fuori tutta questa roba qua dice ora sono pronto a dire tutta la verità nella massima trasparenza non faccio più video dove dove faccio tutte quelle scene lì ma me ne scuso non rifarei più un video del genere ora sono pronto a dire tutta la verità nella massima trasparenza dice così attenzione sono stato poco attento mentre giravo per il paese a quello che c'era a casa mia quindi lui ha visto perfettamente tutti i sopprusi in giro per l'italia ma dentro casa sua non ha visto nulla dice sono stato un po leggero un po di leggerezza eppure i i i testimoni dicono che lui portava la spesa in queste cooperative però non sapeva niente non ha visto niente leggerezza no vedeva tutto quello che succedeva in italia ma in famiglia non ha visto niente dice ho fatto una leggerezza a si chiamano così leggerezze anche no è come i furbetti del reddito che al posto che chiamarli truffatori del reddito vengono chiamati furbetti qui in questo caso non si chiamano in un certo modo ma si chiamano leggerezze ho fatto una leggerezza e vabbè dai ha fatto una leggerezza ma formigli dice c'è un operatore che ha raccontato che lei frequentava le cooperative quando è andato nel centro migranti non ha visto le condizioni poco dignitose di quei centri di accoglienza se non lo sa è grave e lui dice la mia famiglia gestisce un centro di accoglienza ma quella gestione lì da una ventina d'anni e la mia compagna l'ho conosciuta nel 2018 quando quell'attività già esisteva attività che a suo dire era virtuosa peccato che nel 2019 l'ex senatrice di sinistra italiana elena fattori fece un sopralluogo nelle due cooperative al centro dell'indagine della procura di latina scoprendo dei posti indecenti al limite del fatiscente dove dice la la ex senatrice di pd in quei posti io non ospiterei neanche i cani e poi cosa succede che questo sou maoro formigli gli chiede ma lei come come si manteneva prima e lui dice e ho scritto un libro guardate e poi gli chiede ma lei ha fatto prestiti per una casa da 200.000 euro e lui dice beh ma ha cercato di giustificarsi ho scritto un libro e comunque mia moglie prima lavorava e certo la moglie aveva un compenso come amministratrice come la suocera si davano un compenso da queste società cooperative di 100.000 euro a testa all'anno 100.000 euro una bella cifra e infatti formigli dice ma allora lei si manteneva avendo scritto un libro poi sapete che coi libri sono pochi quelli che vivono scrivendo i libri ad esempio saviano con il suo gomorra ha fatto milioni di euro ma perché ne ha venduti milioni di copie quasi 15 milioni di copie quasi se tu fai un libro e ne vendi qualche migliaia di copie e prendi una provvigione non so del 5 8 10 per cento non lo so gli accordi e in realtà che cosa come fai a farti fare un prestito avendo scritto un libro ti fanno il prestito per comprarti una casa formigli dice ma lei come viveva prima e ho scritto un libro cioè prima di fare il parlamentare come viveva ho scritto un libro come viveva con le cooperative della moglie e avendo scritto un libro beh arrivederci a tutti e grazie